La particolarità di questo ha un altro significato, un significato molto importante. Porta la data 14 marzo 1848. La curiosità è il fatto che è 14 marzo. Andando a verificare cosa vuol dire la data 14 marzo 1848, è il risultato che in quella data sia il Papa sia l'imperatore d'Austria concedono la libertà di stampa, cioè tolgono la censura preventiva. Se poi si osserva cosa c'è scritto qua nell'ovale, nell'ovale, è scritto in tedesco, c'è scritto la libertà di stampa.